Il progetto della Forest Oil per la realizzazione di un impianto di produzione e trattamento di gas nel comune di Bomba va avanti, nonostante le resistenze di comitati cittadini e di una decina di amministrazioni comunali del comprensorio preoccupate sia per l'impatto ambientale che per la tenuta della diga sul lago di Bomba. La multinazionale statunitense ha infatti avviato un processo di raccolta e selezione di aziende e fornitrice di personale sia per la fase di costruzione dell'impianto che per tutta la vita produttiva del giacimento, stimata attorno ai 14 anni. Il progetto della Forest Oil è stato presentato presso la sede di Confindustria Chieti. L'amministratore delegato per l'Italia, Giorgio Mazzenga, ha invitato tutte le aziende locali e chiunque fosse interessato a lavorare per la filiale italiana della Forest Oil a presentare la propria candidatura. Questo è un invito e lo pubblicizziamo proprio affinché tutte le aziende locali abbiano la possibilità di presentare le loro credenziali che noi analizzeremo e poi nel momento opportuno si effettuerà la selezione finale. Dopo il SIDE, Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, della Sorvintendenza e Beni Archeologici manca solo il parere della regione Abruzzo. Nel progetto la società ha già investito circa 20 milioni di euro che a fine investimento saranno circa 85. Dalla realizzazione dell'impianto, hanno spiegato i rappresentanti dell'azienda, il territorio otterrà occupazione più gas. Il giacimento potrebbe addirittura aumentare del 50% le riserve italiane di gas.